Buonasera ragazzi, scusate se non vi sto portando molti video in questi ultimi giorni ma sono pieno di cose per la scuola quindi ho anche il mio dovere oggi volevo pubblicare un video ma alla fine l'ho cancellato perché non riuscivo a registrare bene proverò la prossima volta o domani o lunedì adesso appena riesco vi porterò un altro video e lunedì sera se tutti quanti ci sarete farò una live dove vi farò vedere l'evento finale di Galactus di Fortnite che sarà l'evento che distruggerà praticamente tutta la mappa che poi vedremo come andrà a finire e speriamo bene vi aspetto tutti quanti in live su questo canale qua vi manderò il link per chi mi conosce su whatsapp per invece chi non ha il mio numero tanto vedrà la notifica e detto questo io raga vi lascio, buona serata, buonanotte e vedremo domani se riesco a registrare un video di Minecraft assieme a mia sorella e speriamo bene detto questo io vi auguro una buona serata, buonanotte ciao ciao